Mi chiamo Giulia Perini, sono un project manager di Geoside, Energy Service Company del gruppo Italgas e mi occupo di gestione dei progetti di riqualificazione immobiliare in chiave energetica. Quotidianamente mi occupo di gestire e coordinare i vari stakeholder del processo, quindi imprese, professionisti come direttori lavori, coordinatori della sicurezza, al fine di garantire un corretto avanzamento della commessa nel piano rispetto di tempistiche, budget e qualità. Al fine di garantire una buona collaborazione tra i soggetti coinvolti, svolgo periodicamente dei sopralluoghi in cantiere volti a verificarne l'effettivo avanzamento. Lavorare nell'Aesco del gruppo Italgas è sicuramente stimolante e dinamico, ma è anche costantemente sfidante per il ruolo chiave che l'azienda ricopre nell'ambito dell'efficientamento energetico. La gestione di progetti di efficientamento immobiliare è un'attività cardine nella transizione energetica del nostro Paese, poiché consente di convertire edifici esistenti in immobili più sostenibili ed efficienti. Grazie.